Buongiorno dalla vostra Ondina Wavelet. È iniziato il viaggio dell'eroe di Ondina Wavelet il 16 gennaio scorso, quindi per chi si fosse perso il primo episodio vi segnalo che è sul mio canale YouTube Jasmine Laurenti e sulla Instagram TV sotto forma di podcast, non video stavolta, ma in podcast. È stato registrato a braccio come tutte le mie registrazioni, anche in questo caso vuol dire che sto improvvisando e tengo le gaff, tengo tutto. Ok, ci sono due modi in cui io posso ispirare i sognatori che non si arrendono mai. Il primo è quello che ho già utilizzato in questi mesi come talk show host, intervistare personaggi che ce l'hanno già fatta, cioè che ci raccontano la loro personale storia, il loro personale viaggio dell'eroe. Sono arrivati a destinazione? Sì. Continuano ad evolvere? Sì. Continuano a crescere? Sì. Perché queste persone comunque, come tutti noi, continuano il loro viaggio. Il viaggio non finisce mai, è la nostra vita e quindi si va avanti, si deve crescere, ma questi eroi ci hanno raccontato la loro storia fino a un certo punto, cioè fino ad aver raggiunto la loro personale terra promessa. È molto d'ispirazione ascoltare storie di influencer, di imprenditori, di sognatori che ce l'hanno fatta. È altrettanto di ispirazione secondo me, è forse un percorso questo meno praticato e più interessante da così saggiare, ascoltare la storia indiretta di chi sta percorrendo il proprio percorso. La maggior parte di voi mi conosce come doppiatrice di successo e quindi io ho già raggiunto la mia terra promessa come doppiatrice, ma sono ripartita da zero, da lì, lasciandomi alle spalle una carriera di tutto rispetto per intraprendere un viaggio che è soltanto all'inizio, come talk show host, cioè come la opera Winfrey Beniantri, tra virgolette, cioè l'inspirational speaker che accoglie nel suo salotto altri eroi da intervistare, ma io stessa, come talk show host, ho iniziato il mio viaggio e quindi il mio brand è tutto da costruire, il mio viaggio è veramente appena nato e appena partito. La mia chiamata è stata un anno e mezzo fa circa, ho sentito quest'urgenza nel mio cuore di intraprendere questo cammino verso la realizzazione di un sogno come persona che intrattiene, ispira il proprio pubblico a realizzare i propri sogni, a essere felice, a prendere nelle proprie mani la vita, innanzitutto chiedendosi se è la vita che stanno vivendo veramente, se è la loro vita, voglio dire non la vita presa in prestito da qualcuno che ha detto dovresti fare così invece di seguire i tuoi sogni e una volta realizzato che si sta vivendo una vita non propria decidere di rispondere a questa benedetta chiamata, lasciarsi alle spalle la zona di comfort con grande coraggio, intraprendenza e nonostante la paura agire, fare un passo in avanti, dopo ovviamente aver fissato un traguardo, un obiettivo, aver deciso anche in qualche modo qual è la tempistica che ci si vuole dare, in quanto tempo si vuole raggiungere questo obiettivo, ha valutato quali sono le risorse necessarie per raggiungere questo obiettivo, insomma ci sono diverse cose da tenere presente quando si decide di partire, poi però va fatto questo primo passo, io l'ho fatto, il 16 gennaio scorso ho deciso di documentare questo mio viaggio con voi attraverso i podcast e quindi io vi racconterò giorno per giorno quello che faccio perché voglio incoraggiarvi, cioè voglio dirvi ragazzi sono con voi perché sto vivendo quello che state vivendo voi se siete già partiti oppure sono un po' più avanti se non siete ancora partiti e non avete dato retta a quella chiamata che sentite nel vostro cuore alla quale probabilmente non avete forse ancora al momento avuto il coraggio di dire sì, ok, ti rispondo, parto. Il 16 gennaio è andato, che cosa ho fatto dal 16 gennaio ad oggi? Allora innanzitutto va detto questo, il mio progetto è un progetto grandissimo che prevede la realizzazione di cinque sottoprogetti, cinque, non posso parlarvene ora per motivi di riservatezza perché va presentato a potenziali finanziatori, quindi è giusto che rimanga in qualche modo discretamente protetto per evitare che qualcuno possa prendere l'idea e svilupparla per conto proprio, quindi deve essere una cosa originale nel suo, ecco per quale motivo io al momento non posso dirvi più di tanto, ma è una cosa grandissima. Quello di cui posso parlarvi però è quello che già vedete, che è in superficie ed è l'aspetto del talk show, Wavelet Show, che è lo show di Ondina e del Jasmine Laurenti Show, che è anche il nome del profilo su Instagram. Dal 16 gennaio io vi ho documentato la mia necessità di liberarmi del superfluo, liberarmi dei pesi, liberarmi delle cose inutili, tutto quello che mi è in più, lo sto praticamente regalando, vendendo, buttando via, sto restituendo all'universo quello che l'universo mi ha dato che non mi serve più perché per partire bisogna liberarsi di quello che è in più e mettere nello zaino invece tutte le risorse utili a intraprendere il viaggio dell'eroe. Mi chiedete se ho paura, mamma mia, certo che ne ho, altrimenti non avrei coraggio. Quindi anche in questo senso vi dico tutto questo accanirsi sul pensiero positivo. Io sono d'accordo con Paolo Borzacchiello e con quei formatori, trainer, scrittori, inspirational speaker che si sono resi conto che il pensiero positivo non funziona, perché dirsi che è obbligatorio pensare positivo, dirsi che tutto deve andare per forza bene se noi ci sforziamo di pensare in modo positivo. Ecco è andare contro natura. Noi siamo anche fatti di corpo, siamo fatti di carne, ci sono momenti di scoramento come quello che ho avuto anch'io il 16 gennaio scorso che vi ho documentato e io stessa formo la leadership a gestire il proprio stato emotivo, ma in quel momento ho dovuto gestire il mio di stato emotivo. Quindi diciamo che è una forzatura parlare di positività quando si sa benissimo che nel proprio viaggio i momenti di scoramento arrivano, si presentano e vanno accettati, vanno accolti, perché quanto più ci si sforza a dire no a un'emozione negativa, quanto più questo sentimento, questa emozione negativa, questo pensiero si ripresentano. E allora qual è la tecnica da utilizzare? Ve ne ho già accennato. Accogliamo questa emozione, accogliamo questo pensiero non buono nella sala d'aspetto e diciamogli ok, accomodati qui, io ho altro da fare e si va da un'altra parte e si va a concentrare la propria attenzione, a focalizzare la propria mente sul proprio obiettivo, sul da farsi, sul piccolo passo da compiere ogni singolo giorno. Ecco questa è la mia modalità per rendere diciamo così il pensiero, l'emozione che si presenta non propriamente positivi, perlomeno innocui e quindi è più facile in questo modo rimanere focalizzati sulle cose che vogliamo, non sulle cose che non vogliamo. Che cosa è successo dal 16 ad oggi? Allora non solo mi sono alleggerito, ho cominciato questo processo di alleggerimento liberandomi di tutte le cose che non mi servono più per partire leggera, dall'altra parte mi sono dotata delle risorse che per me erano importanti. Una di queste risorse è rendersi conto che abbiamo bisogno di una coccola quando ci viene la malinconia e così sono andata a farmi bella, mi sono presa cura di me, mi sono fatta curare dal mio parrucchiere, sono andata dall'ortodonzista a sistemare i miei denti con l'apparecchio per i denti che magari nella mia pronuncia sentite e anche questo è importante perché una talk show deve avere un sorriso bellissimo. Ecco e quindi anche questo aspetto va sistemato, devo sentirmi a posto in tutti i modi, in tutte le aree. Dopodiché ho incontrato delle persone che sono delle persone a cui voglio bene e sono degli angeli che l'universo ci dà, che Dio se ci credete ovviamente perché voglio rispettare la vostra visione della vita e anche di questo aspetto spirituale. Sono importanti le persone che arrivano ad aiutarvi, accettate l'aiuto che vi danno e io sto facendo proprio questo. Sto incontrando queste persone che si rivelano essere degli angeli mandati dal cielo in qualche modo ad aiutarmi, a sorreggermi e c'è un interscambio di informazioni importantissimo. Io do loro quello di cui loro hanno bisogno perché dando che si riceve loro mi aiutano in cambio a proseguire nel mio cammino, mi danno quindi quello che mi serve per compiere lo step successivo. Passo dopo passo, abbiate il coraggio quindi di alleggerirvi, di prendervi cura di voi stessi, di dotarvi delle risorse che vi servono e di dire sì alle persone che il destino in qualche modo vi manda, vi propone, mette sul vostro cammino perché potrebbero rivelarsi angeli custodi, mentori, guide, amici semplicemente che ci coccolano, che ci sorreggono nel momento del bisogno a cui dare tutto quello che possiamo dare perché ricordiamoci il principio spirituale più importante è che è dando che si riceve. Io proseguo il mio viaggio documentandovi giorno per giorno quello che succede. Oggi è una giornata dedicata al networking quindi a prendere contatto con tutte quelle persone che in qualche modo l'universo Dio mi sta mandando per essere aiutate da me e per aiutarmi a proseguire per il mio viaggio, a proseguire nel mio cammino. Vi abbraccio forte, grazie per seguirmi, se non l'avete ancora fatto prendete ispirazione dai miei video sul mio canale YouTube e quindi iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, il canale è Jasmine Laurenti e logicamente il mio profilo su Instagram è The Jasmine Laurenti Show dove c'è anche l'Instagram TV e l'inversione ridotta pubblico interviste e video podcast ispirazionali come questo per incoraggiarvi a partire per il vostro personale viaggio dell'eroe, realizzare i vostri sogni e che altro dirvi vi voglio bene. A prestissimo, alla prossima tappa, al prossimo passo. Ciao ciao!